Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi giochiamo a Age of Tanks, non sa nulla, è ignara e tra due minuti sarà felice come una pasqua perché ti piace tantissimo, giochino l'ho visto ieri ho fatto, questo va portato, super carino di quelli veramente che io adoro ma che poi non fanno views, grazie youtube ti vogliamo bene ma comunque li portiamo perché sono belli, allora battaglia così capisci subito, i carri armati ovviamente Carri armati però non credo che ti abbiamo visto i carri armati del genere, ancora non si vedono, sono carri armati un pochino particolari Ah ma il carri armato, non è una truppa Cioè sono i carri armati partendo anche dalla preistoria, io volevo zoomartelo per farti apprezzare maggiormente questa meraviglia ma io posso in qualche maniera potenziare la produzione dei miei perché loro ne stanno creando tantissimi Ma cos'è questo 2? Che abbiamo due di vita, è fatto per perdere, lui c'ha 500 di vita, ok è fatto per perdere Dovremmo piangere in questo momento? Sì Ti può essere tipo il bimba No mio Dio E quindi ti arrabbano Però di solito il contrario, di solito ti fanno vincere stra easy No qua, ti dico, se è un bimbo nutellino ti prendi un ciaffone e perdi, perché non si fa nulla Mi pare anche eccessivo, allora ci sta spiegando tutto quanto, guarda che bei tutorial per far capire tutto Quindi noi dobbiamo andare qua e upgradeare la food production, battaglia Ma davvero? No ma c'è qualcosa che non basta perché non stiamo capendo, cioè non possiamo passare il tempo a perdere Ma no Ma proprio un gioco che ti dice, tu non vincerai mai perché fai schifo E quindi nel senso c'è quello E il Dark Souls dei giochi per peraltro Ah esatto, tipo il Dark Souls Non lo sapevo La serie A, agganciati No perché adesso ne esponiamo di più, per carità E comunque guadagniamo dei soldini aggiuntivi Ma io pensavo che adesso ci fosse il vero primo round Cioè che proprio cambiasse il... No, non è che dico i giochi che il livello è questo Però c'è, se abbiamo due di vita, quello ne è 500 Da quel che ci potenziamo sono una ministeria di video Ma guarda quanti ne spona, è quella la cosa più terribile Guarda, cioè sta sponando un'altra truppa, ci è capita tutto nella sua vita Io non ho nulla Sì c'è qualcosa, non lo so, se siamo noi o se è previsto che sia così Evidentemente Devi che non stiamo facendo uno di quei video, che stiamo facendo una figuraccia Sì, può essere E non colliamo cosa c'è da fare Scusa, guarda la mappa Guarda tutto quello che puoi guardare Questa è la mappa Questa Timeline 2 Quindi no, qui stiamo sicuro che non possiamo fare nulla Ti prego, spiegami Ma vuoi che cerco un video di sto gioco Che magari ci fa vedere l'inizio Però, cioè, non mi sembra che c'è qualcosa che non fa C'è qualcosa che non fa Che non stiamo capendo Ma dovrebbe Allora, mentre lei cerca Io vado avanti sul farming Perché comunque con i soldi ci potenziamo Che la lettiera ci dice che alle 13 e 27 Leo è andato in bagno Quindi non so se lo vedete Vi darei l'orario anche lì quando ci sono andato io Ma non me lo ricordo, mi spiace Dice anche per quanto tempo è rimasto Per fortuna non c'ho la notifica La puoi anche tu Age of Tanks, cara Sì, l'ho capito Devo trovare il wall true Perché adesso con la produzione di soldi maggiore Iniziamo ad avere un combattimento più gestibile Vedete Allora, livello 1 e livello 100 Quindi vediamo Eh no, vedi che anche lui è 2.500 uguale Quindi perderai E fammi vedere Scusa, vai avanti Scusa, no, come ha fatto con due di vita Raga, c'è il primo carro armatino suo che è sciotta Esatto All si è super potenziato e ha fatto l'infame Ha fatto l'infame Ha fatto l'infame Ma non puoi neanche farmi però un gioco dove io devo perdere così tante volte Dai Non ho mai visto niente di sì Fere c'è qualcosa che non va Trova dei video Non l'ha fatto nessuno sto gioco Davvero? È normale Sì, alla fine abbiamo trovato un video di qualcuno che ha iniziato come noi Quindi senza pg potenziati che ci fanno vedere cose incredibili che non possiamo fare Ed è così Non ho mai visto niente di sì E alla fine quella persona si è stancata e ha scioppato Sì, nel caso possiamo guardare anche tipo le pubblicità Praticamente raga dobbiamo farmare talmente tanti soldi Facendo fuori questi singoli Che a un certo punto Hai proprio trovato il Dark Souls dei mobile games Di solito incontrerai sono facilissimi che ti addormenti Il gioco che ti fa, capito, gioca sulla psicologia inversa Ti faccio perdere così tu hai voglia di vincere e continui a giocare Ci può stare Non lo so se funziona, eh Fuori dalla rec che forse lo salutavo per sempre E abbiamo perso Ok Però 40 Se mi propone di guardare il per 2, eh Ne avrà la pena, ne avrà la pena Sì, guardalo Allora, voi verrete risformiati di tutto questo Sappiate però Posso No, no, vai Stai parlando tu Se no raccontavo una cosa carina No, chiedo al signor editor Il conteggio delle pubblicità che guarderemo Per riuscire ad andare a vincere il primo fight Perché è giusto che Anche se voi non soffrite assieme a noi Sappiate la sofferenza che noi abbiamo vissuto È sbagliato che vengano tolti da questa sofferenza E quindi devono saperlo E dovete anche sapere che dopo tutto questo discorso Questa pubblicità è forse appena finita 97 soldi Con 150 noi potremmo comprare se con la truppa Ma non possiamo shoppare anche noi Cioè magari gli dai 5 euro al gioco e ci siamo risolti un po' Cara, ti giuro, guarda E come ha fatto il tizio che stavamo guardando a shoppare? Forse prima ha fatto di pubblicità e poi dopo a shoppare Cioè adesso non posso neanche shoppare Fatemi shoppare, ti do 10 euro Mi rendi il gioco un po' più Perché non gli voglio dare 10 euro? Guarda anche questo A BUMBETTA E mo' li spacchiamo Forse il senso è che dobbiamo guardare le pubblicità Ho già visto vari mobile game andare così Allora io non credo che gli spacchiamo la caverna Però almeno Almeno stiamo iniziando a vedere dei progressi Le truppe fanno una brutta fine per un po' di tempo No ma guarda l'anno che non facciamo la caverna Procura quanti soldi ci paga Infatti Ci spariamo poi di mobile per due sui guadagni Perché diventiamo ricchi sfondati eh Sì sì, allora forse il bro non ha shoppato Ha guardato un sacco di pubblicità Credo che sarà la soluzione Sei contenta? Non vedevi l'ora oggi eh? L'avevo detto nell'intro Ah oggi ci divertiamo Non è male che tu mi trovisti i giochi Eh lo so Io penso che stanotte anziché giocare a Final Fantasy X Che mi aspetta pure un boss che mi sta dando parecchie difficoltà Cosa che a me non ha dato Giocherà questo No però Steph mi ha detto è strano che tu muori sempre Sei così scarsa Quindi ha guardato dei video di persone E ha trovato delle persone come me Che dicevano che hanno mollato il gioco per mesi Perché sono talmente bravo che invece non ci ha avuto problemi No non è vero è solo avuto culo perché ho mettesso girate le cose Perché lui mi ha fatto ah usa questa tecnica L'ho usata su di me non funziona Quindi adesso dovrò inventarmi un'altra strategia Però mi piacciono le cose difficili Cioè però non mi lamento non sono arrivata al punto di dire non ci gioco per mesi E altri dicevano ah mi ha rovinato l'esperienza di gioco Perché il gioco mi piaceva ma ho smesso di giocare per colpa di quella boss fight Non ce l'hai fatta Però 160 Se adesso ci potenziamo e tra 20 minuti ci arriva pure il pranzo 23 minuti perché abbiamo la pagina del pranzo aperta avanti Nice Avevo paura non venisse oggi Per due E ci rivediamo tra un po' Vi faccio vedere questa pubblicità bellissima Questa è la pubblicità che mi compare costantemente quando io leggo i webtoon Perché puoi acquistare i capitoli con i soldi veri Oppure adesso c'è la possibilità solo in alcuni di guardare la pubblicità Io siccome su tirchi ho detto me guardo le pubblicità Questo io lo faccio ogni notte perché li leggo solo la notte prima di dormire Quando mi voglio leggere il capitolo in più perché stanno succedendo cose meravigliose Ma hai visto conti bro subito Ma guarda che bellino io questo gioco te lo volevo proporre nel canale È incredibile E ci sono altre ambientazioni A volte devi raccogliere la legna per riscaldare le persone che sono con te in mezzo al freddo invernale Ci sono tanti scienze Però ancora non abbiamo capito come si chiude senza far partire Eh devi stare attento Eh no forse non parte Ah quindi tu hai avuto il dito da Hobbit Esatto come sempre Ah Perché ti si apriva la pagina del Play Store e fa bugare la nostra registrazione Se no non ci capiscono Concentrata La seconda truffa Però noi abbiamo anche l'Evolution a... no 2000 No ci abbiamo Questo E poi Spam Food Production Esatto vai 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 Tre di vita Tre Contro cinque Te hai pensato di andare almeno a dieci Ma arriveremo mai fino alla nuova mappa Provo a non farlo? Andrà malissimo Ma secondo te questo per 1.5 di che cos'è? Perché posizionato lì mi confonde Ma quanto va lenta sta lancia La velocità sta Delle truppe Eh perché sei lento magari è quella È veramente... Cioè l'obiettivo del video è vincere il round 1 Vincere il primo round Io ho mai fatto un gioco del genere in vita mia Guarda gli sti scemi che ci tirano alla loro volta le lance Io ci credo Io no Io ci credo Allora dovete killare i lanceri veloci Non attaccati Non attaccate la caverna Non siate stupidi Stanno attaccando la caverna Sì 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 Abbiamo perso Ma quanta gente è uscita Non è possibile però Dai Ma che gioco Ma che gioco L'ha fatto uno che ho dei bambini Sì sì È l'unica spiegazione logica Te l'ho detto uno che ho dei bimbi nutella E dice ora stai qui a prenderti ceppone alla mattina della sera Poi pensai il nostro che è complicato su Roblox Sì infatti Sta roba ti rovina l'anima Però hai visto che abbiamo fatto Gemmina Ma che mi servono a qualcosa Ah vabbè non è da 3 di vita a 4 Scusa eh Scusami Lo so che ti ho sorpreso Guarda quanto dura la base con 3 di vita Cioè tipo 45 secondi pubblicità eppure poi altri 15 con questa con pure tutto lo skip Io spero siate ricchi suon dati almeno Cioè ve lo auguro Compro la terza truffa Sì È il gioco che ti fa venire meno voglia di continuare a giocare della storia Non ne hanno mai fatto uno che ti fa passare di più la voglia di vivere 5 di vita che culo Sai che viene riguarda la pubblicità vero? Sì lo so lo so Vada Vai Quella del cibo L'hai potuto comprare Facciamo così raga E dopo che mettiamo sti 3 melee Due lanceri E adesso continuiamo con i lanceri E poi aggiungiamo dei melee Perché quando finalmente fai qualcosa da poter fare a livello di gioco Facciamo le skill noi eh Ora devo spammare guardie Perché man mano ci schiattano Ne è quasi schiattato uno ma ne è quasi tornato uno Oh però guarda guarda i danni Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce la facciamo? Te l'ho detto che questa è la volta in cui ci crediamo di più Ma sei sicura? Ce la facciamo? Ma sicura sicura? Sicurissima Io non ci credo ancora No ce la facciamo ce la facciamo Sta scendendo più lentamente Per fare l'evoluzione 2000 Perché un'altra partita così è una tristezza incredibile Un disastro Lo vuoi? Lo vuoi il clutch? Andiamo a fare i soldi legato No ma se non se non posso più riguardare la pubblicità non ce la facciamo lo stesso Cioè noi riperdiamo qua eh Sì È stata una vittoria one shot Cioè è ridicolo Dimmi un gioco in cui se il gioco a stesso livello perdi Devo smettere Non Non di fare il potenziamento ormai No sicuro Ma certamente l'abbiamo visto Te la fanno pure vedere dal nemico Sì è vero che è triste che te lo spoilerà Vabbè Non 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 giocatelo Non scaricatelo Non guardate gli youtuber brutti che vi ingannano come è capitato al povero Steph Ehm Ero felice di portare sto gioco Mannaggia Il concetto è carino Il concetto era carino No è che ho bilanciato male Ma perché farlo così Ci vediamo al prossimo video Ciao